Salve a tutti friends dal vostro SuperCordis, eccoci qua ragazzi, secondo episodio dei libri di SuperCordis Oggi parliamo di Kobe Bryant, Black Mamba Libro stupendo ma bello proprio anche come grandezza, vedete, molto grosso, pieno di immagini Pieno di foto, immagini belle da vedere Libro molto importante, io ragazzi ci tengo a questa serie di video, anche se non faranno le migliaia di visualizzazioni dei video di Formula 1 e delle cazzate varie Ci tengo perché questi sono i video che a molti di voi, soprattutto quelli più giovani, ma anche quelli di un'età più avanzata possono portare qualcosa in più Perché quando tu leggi un libro di un fenomeno come Kobe Bryant, la tua mentalità cresce, si evolve, diventa diversa Perché? Perché Kobe Bryant è stato uno dei fenomeni più incredibili dell'NBA, ma anche dello sport in generale Voi leggendo le autobiografie dei personaggi più famosi al mondo che siano sportivi, imprenditori, attori Potete capire cosa ha portato queste persone che spesso arrivano da famiglie non certo ricche e disagiate Ad arrivare a top, a diventare delle vere icone senza tempo Perché Kobe Bryant rimarrà per sempre uno degli eroi più incredibili dello sport mondiale Un atleta straordinario, incredibile, ma perché ha fatto un lavoro su se stesso e nella sua vita molto importante Ecco perché vi dico io, Kobe Bryant è un fenomeno, non si discute Quando vi leggete una autobiografia di un personaggio famoso capite la sua mentalità Riuscite ad estirpare, ad usurpare le caratteristiche, le qualità che hanno permesso a quel personaggio di arrivare in alto E' quello che vi dico io ragazzi, Netflix, serie tv, tutto bello, ma cosa vi lasciano? Soltanto intrattenimento, questi sono libri Io ho letto Kobe Bryant, ho letto Jeff Bezos, ho letto Ray Kroc di McDonald's Ne ho letti parecchi, sono libri che vi lasciano, quelle dei Queen Una forza, una motivazione dentro, diversa Perché sono libri di persone normali che sono partiti da livelli normali Lo stesso Kobe Bryant nel libro dice io ero un giocatore potenzialmente normalissimo Sono diventato un fenomeno perché ho lavorato più degli altri Perché lavoravo più degli altri, ecco perché sono riuscito a diventare un fenomeno Se no sarei rimasto un giocatore assolutamente normale Quella è la differenza, quando facciamo un paragone tra Messi e Ronaldo Messi è stato probabilmente baciato dal talento più di Ronaldo Messi era proprio un fenomeno di quelli che ce l'aveva nel DNA Ronaldo era comunque forte, ma Cristiano Ronaldo è diventato quello che è stato Perché è stato disposto a lavorare più degli altri Era quello che si atteneva la sera di più a fare, a tirare le punizioni A continuare ad allenarsi, è quello che è stato più attento a tutto quello che ha fatto Quindi è straordinaria la testimonianza che potete trovare in questi libri Di questi grandi fenomeni che ci possono dare spunti per la nostra vita Per poter vivere, accettare i loro consigli, i loro insegnamenti e farli nostri Ecco perché vi dico io ragazzi, è importante Leggete, ho iniziato a leggere a 35 anni libri che non erano didattici E vi dico la verità, è un enorme rimpianto per me non aver iniziato a leggere prima Perché la lettura ti apre la mente e ti fa imparare cose che non impareresti mai da nessun'altra parte Prima di partire vi dico iscrivetevi a tutti i miei canali Lasciate un like, seguitemi sui miei social, sul canale Telegram delle offerte Supercorris offerte Amazon Dove tutti i giorni metto le migliori offerte di Amazon C'è Fruit Lab, c'è il canale Viola, c'è il canale ufficiale Supercorris 84 di Telegram Per le news in anteprimi sondaggi ghiotti E c'è soprattutto la mia raccolta fondi Supercorris and Friends La trovate in descrizione, ragazzi basta donare anche un euro E ogni fine mese faremo una donazione a diversi enti di beneficenza Allora, come i Brian, gli inizi lui non veniva Giocava da una famiglia ricca, quindi inizi molto umili Il padre giocava a basket anche in Italia Ma non era ricco un giocatore di basket in Italia all'epoca Vivacchiava bene, non è che avesse tutti questi soldi Una famiglia tranquilla Figlio di un giocatore di basket Abbastanza mediocre, niente di trascendentale Acquisisce questa passione per il basket in Italia Quando torna in America decide che deve fare di tutto per diventare un giocatore di basket Lui fisicamente come era? Non era lo stereotipo del giocatore alla Shaquille O'Neal di 2,20m Lui era 1,96m Quindi, sì, nel suo ruolo non era un problema più di tanto Però si scontrava con dei giganti assoluti nell'NBA Iniziò a giocare, arrivò nei Lakers E là lui non aveva una grande personalità E in più sottostava gente appunto come Shaquille O'Neal Che erano i leader di quella squadra Nonostante tutto, nei primi anni Lui iniziò subito a dimostrare un talento straordinario Kobe Bryant dimostrò subito di essere un fenomeno Rispetto a tanti altri Ed è riuscito a imporsi A vincere i primi anelli dell'NBA I primi titoli NBA Ne vincerà 5, ricordiamo? È riuscito a fare cose clamorose Qual era la forza di Kobe Bryant? Descritta nel libro, leggetevelo Lui era veramente maniacale nel suo lavoro Che significa? A parte che si allenava più di tutti Si allenava in palestra con la squadra Poi si andava a allenare in palestra per fatti suoi Lui dice, quando ha fatto soprattutto i primi figli con la moglie Lui si andava a allenare o a mezzanotte o la mattina prestissimo Perché? Non aveva tempo Lui dice, andavo in palestra a mezzanotte ad allenarmi Oppure mi alzavo la mattina prestissimo all'alba E andavo ad allenarmi perché non avevo più tempo Tra gli allenamenti con i Lakers e il mio status di padre Quindi ci fa capire quanto lui non minimamente abbassava la guardia Era maniacale come nello studiare gli avversari Lui era uno di quei giocatori che stava ore a guardare le videocassette Delle partite degli avversari Per studiarli Studiava tutte le squadre contro cui giocava tutti gli avversari E dopo riportava tutto ai suoi compagni di squadra Da cui pretendeva tanto Lui è stato uno di quei giocatori Che pretendeva tantissimo ai suoi compagni di squadra Infatti Alle volte è stato anche dichiarato troppo freddo Troppo cattivo Troppo furente Ma lui dice, questo era l'unico modo per stare a alti livelli In un mondo che non ti aspettava Tu dovevi stare ad alti livelli nell'NBA Se no non potevi giocare E noi volevamo vincere Quindi lui è stato capace di inculcare anche in tanti alti giocatori Una mentalità vincente E tanti alti giocatori nel libro Lui li citerà Allenatori anche Gli hanno aiutato L'hanno aiutato a inculcarsi Anche lui questa fantastica mentalità Lui era Furente Fenomenale Era quello che si allenava di più Quello che studiava di più Quello che si impegnava di più Ed è diventato il più grande della sua epoca Dopo il ritiro di Michael Jordan È diventato il più grande Copy Bryant È stato il quarto marcatore dell'NBA Di tutti i tempi Quindi non è che ha fatto pochi punti Quarto marcatore significa che ha fatto una marea di punti Ha vinto due Olimpiadi Con gli Stati Uniti Certamente Sì ma gli Stati Uniti Sono la squadra più forte Vincono gli Olimpiadi Ma ragazzi Tante volte la squadra più forte Non ha vinto un titolo Basti pensare nel calcio Quante volte è successo Quindi Ha vinto due Ori Racconta molto bene I suoi infortuni Ragazzi Un personaggio importante Non è forte solo quando vince Tutto gli va bene È forte anche quando cade E si rialza Copy Bryant Si è infortunato diverse volte In maniera abbastanza grave Infortuni gravi al ginocchio Infortuni gravi al tendine d'Achille Che l'hanno tenuto fuori Mesi e mesi Lui qua racconta Tutto quello che ha dovuto fare Quando si è infortunato Tutto quello che ha dovuto fare Per recuperare Dopo un infortunio E cosa è cambiato Dopo l'infortunio Perché lui per esempio Si è infortunato Alla spalla destra Nel libro spiega benissimo Come lui Abbia dovuto effettivamente Cambiare il suo modo di giocare Lui dice Non riuscivo più a fare Quello che facevo prima Ho dovuto cambiare il modo di tirare Di stoppare la palla Di palleggiare Ho dovuto cambiare La mia fisionomia Di gioco Perché non ero più in grado Di fare quello che facevo Prima dell'infortunio Con la spalla Quindi lui Studiando Provando Varie tecniche In allenamento Dice Sono riuscito Poi a trovare Un compromesso Che mi permetteva Di essere Igualmente competitivo Pur Avendo delle limitazioni Importanti fisiche Ragazzi Ragazzi La spalla Già se te la rompi E non fai nulla Ti limita in tanto Se giochi a basket Quindi tu La spalla è fondamentale Per i movimenti Ti devassa Quindi Lui parla di tutto ciò In questo libro Ed è bello vedere La motivazione estrema Incredibile Furente di un fenomeno Sappiamo che Kobe Purtroppo è scomparso In un incidente di aereo Vince anche Il premio Oscar Per il suo cortometraggio Quando schisse una lettera Sull'NBA Sulla sua carriera Molto toccante E ricordiamo ragazzi Che nell'ultima partita Giocata Praticamente a 40 anni Dopo 20 anni Di NBA Lui ha segnato 60 punti Nell'ultima partita Pensate Un qualcosa di mostruoso Pensate il fenomeno Che era Kobe Bryant Ripeto È stato L'unico giocatore A stare Per più di 20 stagioni Sempre con la stessa casacca Quella dei Lakers Che adorava Nonostante Ricco parlerà di momenti difficili Allenatori che non sono andati bene A genio a lui Alla squadra Parla delle sue difficoltà E questo è il bello Ragazzi I grandi personaggi Non hanno tutta una vita rosea Sono grandi anche nella sconfitta Nelle difficoltà Nelle problematiche La capite quanto uno è forte Questo è un libro enorme Non è ripeto Tutto libro scritto Ci sono anche tante immagini Ragazzi Come potete vedere Anche pagine e pagine Di immagini Ma è un libro stupendo Un libro che io vi consiglio Perché Vi fa Cambiare la vostra mentalità Vi fa capire che Nella vita Mai dire mai Si possono superare le sfortune Se avete il giusto metodo di lavoro Ma dovete applicarvi Veramente tanto Potete riuscire in tutto Ragazzi Ecco perché vi parlo sempre Che lavoro sempre Che mi continuo a migliorare Perché Questo è uno dei metodi Che ho imparato anche Da Black Mamba Dal libro di Kobe Bryant Quindi Ve lo consiglio Leggetelo Perché secondo me ragazzi Vi aprirà la testa E vi farà capire Molto di più sulla vita E su come si vive al top E si migliora Ciao aglio Ciao aglio